Un caro saluto a tutti gli amici del canale. Siamo qui in Villa Borsani a Varedo e in occasione del fuorisalone è stata organizzata questa esposizione di arte contemporanea. Vediamo quindi adesso una carrellata di tutto quello che c'è esposto. Bene, con questo è tutto. Vi auguro una buona visione e un caro saluto a tutti dal Pellicano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.